Nessuno vuole condannarli, ma tantomeno facendo così alziamo un... Lo sai che io non ho capito niente? Un poverone che non dovrebbe essere... Parenzo, hai capito qualcosa? No, mi sembra che sia molto confuso, ma evidentemente è collegato da un'enoteca. Ah, che enoteca è? Che enoteche ci sono in provincia di Bari? No, l'enoteca... sono a Stemio. Lei è a Stemio? Non c'è... Parenzo... Allora potrebbe essere qualche farmaco. Vive di canna, Parenzo. Vive di canne? Sì, di canne e di canna. Di canne e di canna. No, canne veramente è tanto che non me ne faccio neanche... è tanto. Non dire stupidaggine adesso, sennò ti becco subito. No, sarà almeno un mese che non mi faccio la canna. Ah, un mese, un mese. Cioè l'ultima volta che ti sei fatto una canna, quant'è stato? Un mese fa? Un mese fa, credo. Un mese fa. Beh, bravo, eh, bravo, ma... La stiamo buttando in burlesque, come è il vostro solito. Perché invece lei ha fatto un intervento, vuoi dire, di prezioso. Lei è uno dei galli della loggia, proprio.